...perché se combattiamo e lo diamo, lo facciamo per i nostri diritti. Pagere il peccato, pagere il tutto, pagere il tutto. Oggi appunto siamo tornati in questo stesso luogo per portare avanti una mobilitazione, per portare avanti, diciamo, per portare la nostra voce e per dire che noi da qui non ce ne andiamo. E appoggiare un governo che è così chiaramente schierato e che nel primo mese, nelle prime settimane di insediamento già ha emanato e approvato leggi del genere, crediamo sia inaccettabile. Quindi noi vogliamo prendere parola, vogliamo prenderci spazio, vogliamo creare un nostro tempo. L'università deve rimanere in uno spazio democratico e deve essere aperto al dissenso. Il governo che si è aperto non può intervenire con i manganelli per distruggere il dissenso dell'università. L'università deve essere aperto al dissenso dell'ordine, mettendo in serio dubbio la convinzione di Giorgio Meloni. La città è della città! La città! L'università deve essere aperto al disorse di Giorgio Meloni. La città è di giudicello!